Siamo orgogliosi di avere l'assegnazione per il 2016 di questo mezzo, l'unico nella provincia di Teramo. È un mezzo particolare, noi lo chiamiamo, lo abbiamo sovrannominato la piccola peste. È un, non è nient'altro che un mulo meccanico che permette di raggiungere ogni località. È un mezzo elio trasportabile nella malaurata ipotesi che dovessero accadere degli incendi boschivi in zone impervie, laddove prima si attendeva che bruciasse il bosco con opere soltanto di circoscrizione. In questo momento siamo in grado invece di operare, non appena le fiamme si sono abbassate per opera dei mezzi aerei, con questo mezzo speciale. Oggi annoveriamo ben 20 volontari in possesso dell'attestato AIB secondo livello. è un termine tecnico, ma sono volontari che sono stati formati e hanno l'idoneità fisica e tecnica per stare sul fronte del fuoco. Ricordiamo quanti volontari conta la CIVES. La CIVES conta 54 volontari e ben 5 hanno partecipato al corso di Operatori Elfo, un corso molto impegnativo con lezioni teoriche e pratiche, un esame finale davanti a una commissione composta da dirigenti regionali, tecnici regionali e comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato. Tra le ultime operazioni effettuate dalla protezione civile in questo 2016? Proprio l'ultima è stata l'alluvione di Pineto. Devo dire che 12 ore prima stavamo spegnendo un incendio a Notaresco. Lo stesso mezzo che è intervenuto per spegnere l'incendio di Notaresco, la mattina dopo ha attaccato il carrello con la motopompa e tutta la giornata di venerdì abbiamo operato per svuotare i sottopassi e soccorrere la popolazione colpita dall'alluvione. Grazie. Grazie a tutti.